tracolla verde verde oliva nato con robusta imbottitura centrale rinforzo in quanto la tracolla è passante imbottita fortemente imbottita molto morbida molto comoda viene utilizzata in genere per carichi gravosi per fucili con molti accessori o armi pesanti tipo minimi e similari regolabile in lunghezza tramite questi piccoli moschettoncini materiale plastico due robusti ganci metallici alle sue estremità in nero opaco antiriflesso